Carcere in Piemonte, problematiche vecchie e nuove. Incontro a Palazzo Lascaris per presentare l'ottavo rapporto sulle criticità strutturali e logistiche delle 13 carceri per adulti piemontesi e dell'Istituto Penale Minorile, realizzato dal coordinamento dei garanti comunali dei detenuti. Tra i temi emersi, quelli legati al sovraffollamento delle strutture e alla situazione della sanità penitenziaria, oggetto di una serie di approfondimenti della Quarta Commissione del Consiglio regionale, la cui presentazione è all'ordine del giorno nella seduta del 9 gennaio prossimo. C'è un problema di risorse, non sono state assegnate risorse straordinarie purtroppo al Piemonte. Abbiamo un intervento in attesa di essere espletato sul Minorile, il più importante intervento a livello nazionale di oltre 25 milioni di euro. Abbiamo posto anche direttamente al Ministro la questione di Torino. Torino è il carcere più complesso d'Italia. Abbiamo proposto che siano spostati immediatamente da Torino i collaboratori di giustizia e l'alta sicurezza per permettere al carcere una vita normale. Per quanto riguarda i problemi più generali è stata segnalata la criticità strutturale della magistratura di sorveglianza, che necessiterebbe di maggior personale ricorrendo anche alla disponibilità di volontari per attività di supporto alla cancelleria e all'attività amministrativa. La sanità è un collo di bottiglia, gli spazi che non decollano. In realtà poi siamo qui anche a portare delle piccole luci. Saluzzo è un carcere che ha trovato nella formazione scolastica, universitaria, una grande valvola di sfogo per cui pur essendo un carcere di alta sicurezza, un carcere dove oggi si vive una dimensione direi accettabile. Per il carcere di Assi la cosa importante è che finalmente siamo arrivati ad avere la sala colloquio esterna pronta, mancano solo le telecamere. Per quanto riguarda il carcere di Alba invece i lavori stanno andando avanti. La criticità importante è che i locali sono troppo piccoli e questo crea problemi. Pensare al futuro delle carcere in questo momento vuol dire pensare sempre di più all'affollamento, sia per le varie regole, le varie leggi che vengono approvate, sia soprattutto per la scarsa disponibilità di misure alternative.